popolo di mister topolini io sono mister rocco vi presento questo bassissimo aspirante mister numero 40 numero 40 nome e cognome alessandro vigini allora alessandro vi svelo un segreto di alessandro siete pronti vai alessandro quanti metri sei alto 26 26 che tempo fa lassù voloso allora due metri sei sei un gigante lo sapevi come mai ben seriamente giochi al basket si gioco basket al boro il vicino san giovanni adesso in settembre ricomincio ero fermo un mese per via della schiena e basta capito capito quanti anni hai 22 22 anni ma c'è ancora possibilità che tu cresca ancora o hai finito no no basta che numero hai di scarpe 50 50 50 50 ho capito cioè male te le fanno su misura le scarpe che so che un problema tante volte trovare la o 50 ancora una misura facile da reperire ma qua trieste è un po difficile valore tipo il palmanova così trovi tutto capito sai che l'altezza è una grande qualità per chi vuole fare la moda come mai ti sei iscritto a mister topolini e ho accompagnato a mia morosa e basta per provare un po per divertirmi bravo divertimento allora senti ben arrivato mamma mia non io non ti posso dire niente che se si arrabbia mi tiro un cazzotto mi 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 dilania quindi ben arrivato divertiti grazie ti puoi abbassare un attimino il mio livello ecco così saluta e poi dire tutto quello che vuoi così mi sento anche un po alto due metri e sei ciao a tutti e spero di divertirmi e basta e basta rialzati di nuovo grazie grazie a tutti Grazie a tutti.